Un grande evento sportivo ma anche una grande festa, ancora una volta all'Emilia Romagna si dimostra terra di grandi eventi sportivi, Cervia si dimostra una località turistica all'altezza della situazione 2700 atleti provenienti da tutto il mondo, da 70 paesi e quindi davvero un grande evento sportivo un grande evento dal punto di vista dell'indotto turistico e una grande visibilità internazionale per la nostra regione e per Cervia Parliamo di 2700 atleti che alla fine con gli staff tecnici e gli assistenti generano per una settimana circa 15.000 presenze a fine settembre quindi davvero un grande evento, un grande prodotto turistico e soprattutto una spinta importante per l'economia turistica della nostra regione oltre che naturalmente una grande visibilità internazionale, credo che l'Emilia Romagna abbia dato una grande dimostrazione di forza, di organizzazione per questo voglio ringraziare tutte le forze dell'ordine, i volontari che hanno fatto sì che questa seconda edizione dell'Iroman fosse un grande successo e ora pensiamo già alla terza edizione e rafforzare ulteriormente le competizioni sportive nella nostra regione